ben ritrovati ragazzi con oggi vedremo un'attività che fa riferimento ad un gioco di bruno munari e bruno munari è un famosissimo designer che ha fatto degli studi per la realizzazione anche di giochi educativi per bambini ovviamente come sempre voi sarete liberi di creare il vostro gioco o di seguire il tutorial e quindi riproporre lo stesso percorso che ho fatto io ovviamente io sono sempre per il vostro atto e il vostro contributo creativo che cosa è questo gioco più o meno questo gioco è un gioco molto semplice che munari pensa proprio per i bambini un po più piccoli di voi anche ma in realtà anche in questo caso può essere di chiunque e prevede delle schede un gioco che non ha né un'età né tempo nel senso infinite soluzioni cioè una scatola si cacciano delle schede ok che cosa sono queste schede le faccio vedere ci sono delle schede che in realtà stampate non so se si vede sì su dei fogli voglio mettere no così non si finisce di non vedere sapete appunto su dei fogli trasparenti ci sono anche ovviamente c'è la che rappresentano un po gli scenari da poter creare ci sono poi dei fogli diciamo lucidi sempre della stessa forma perché in realtà servono per la loro sovrapposizione quindi dei fogli dei cartoncini bianchi poi ci sono anche dei diciamo dei dei cartoni un po più spessi in cui munari crea delle sagome e che in realtà pure anche piene che servono sostanzialmente a creare degli scenari a creare delle forme colorate non colorate in realtà lui propone in questo caso i giocatori possono scegliere delle schede e raccontare una storia più schede utilizzano e più diciamo più e in qualche modo diciamo sono avvantaggiate e quindi vincono come funziona come ho detto c'è una scatola io si può mettere il tutto io lo rimetto nella scatola crea lo scenario nella scatola per semplicità ma potrebbe essere creato tranquillamente senza scatola sovrapponendo praticamente le schede ovviamente il bambino ma anche questi si potreste averle tutte ben distribuite in maniera tale poi di andarvi a scegliere quella che vi interessa e creare il vostro scenario come vi dicevo si può creare mettendo una tessera una sopra l'altra io mi trovo comoda a rimetterle qui dentro e se mai a metterne una bianca sotto e quindi a questo punto come funziona quindi creo il mio scenario non lo so mi prendo questo lo lo diciamo l'ho collaudato sul mio figlio in realtà funziona ovviamente il mio figlio le mette anche senza diciamo un criterio però l'importante è che lui veda le forme i colori e possa in qualche modo fare esperienza di questa cosa quindi il cagnolino poi c'è il ponte vedete possiamo mettere una pianta quindi in realtà per bambini proprio piccoli cioè poi ci potrebbe non essere un criterio ma la cosa importante è che sovrapponendo queste schede si creano diciamo degli scenari diciamo delle immagini ok ma creamone una un po più ne so appunto ci sono le foglie il ponte ovviamente questo induce il bambino ad un atto creativo che non ha non ha fine perché un gioco che poi fondamentalmente può durare in eterno cioè o meglio ha infinite soluzioni quindi ci posso mettere il mare lo mettiamo sotto si può mettere da sopra ci possiamo pensare che c'è la nebbia non lo so e c'è un albero che viene da questa parte ovviamente dipende bisogna provare e conoscerle però il principio è o degli scenari diciamo delle tessere trasparenti io le metto uno sopra l'altro potrei anche creare questo e fermarmi per vedere e diciamo come come posso realizzare uno scenario e quindi come posso creare delle forme ok ora ovviamente tutto questo che c'entra con la tecnologia si parte dal presupposto che tecnologia tutto ciò che voi possiate realizzare proprio produrre e questo gioco noi lo realizzeremo proprio nella pratica per prima cosa c'è questa soluzione poi ci sono anche degli altri libricini che poi vi farò diciamo vi proporrò proprio per la vostra attività che sono rilegati questi fanno parte dei prelibri di sempre di monari come vedete ogni diciamo ogni diciamo foglio di plastica c'ha un segno per questo io vi dicevo non è detto che debbano essere figurativi noi possiamo ricorrere a geometria io ho ricorso la geometria e quindi vedere come le forme si sovrappongono e creano diciamo immagini differenti perché vi ho posto questo prelibro poi ci stanno anche un libricino dei prelibri dove c'è la geometria e diciamo il figurativo quindi col gatto e il topo vabbè partiamo diciamo qual è il nostro scopo lo scopo appunto è quella di realizzare un gioco simile a questo come vi ho già detto creerete delle tessere diciamo dei fogli trasparenti disegnerete su fogli trasparenti sugli acetati e potrete realizzarli proprio come queste tessere senza le legature mettendoli in una scatola vabbè in realtà la realizzazione la scatola non è obbligatoria ovviamente però chi fa questa scelta deve tener conto del fatto che poi se ci vuole giocare deve conservarle da qualche parte e noi siamo funzionalisti oppure potrete realizzare questo gioco lasciando un margine adesso io lo farò così e provvedere poi alla rilegatura presso una qualsiasi creare tutte le schede metterle insieme rilegare stesso dalla tipografia ve lo fanno quindi adesso vi faccio vedere il gioco che ho realizzato io a cui in realtà voi fate riferimento il vostro gioco sarà un gioco più che altro geometrico qualcuno può realizzarlo artistico ma solo esclusivamente chi è molto bravo e solo esclusivamente chi è molto bravo diciamo con le abilità manuali questo è il gioco di monari questo invece è il gioco che ho realizzato io ok molto semplice molto più poche tessere quindi un cartoncino bianco su cui inserire sovrapporre vedete delle linee e diciamo e in questo avere ho utilizzato anche dei cartoni un cartoncino verde ma voi potete utilizzarlo di qualsiasi colore ho fatto delle circonferenze e vedere come diciamo la le geometrie cambiano ok ovviamente ho detto io ne ho realizzate quella bianca penso sia importante da dover realizzare queste trasparenti sarete voi a scegliere il numero che ritenete più opportuno e la geometria che ritenete più opportuno è così pure queste sul cartoncino vi faccio vedere come lo realizzate e come potete farlo in maniera più semplice però le geometrie ovviamente tutto è partito da un foglio a quadretti su cui ho disegnato tutta la geometria diciamo tutte quelle che potevano essere le soluzioni o meglio come se fossero tutte sovrapposte ovviamente escludendo questi diciamo del del colorati ovviamente poi che cosa ho fatto ho preso un foglio acetato ce l'ho sovrapposto sopra ok mi sono andata a segnare solo dei segni cioè a disegnare solo i segni non tutti in maniera tale e ogni scheda prevede dei segni che riprendono questo mio disegno che non vengono poi questo per esempio riempito con il colore in questo caso ed è qui ho tracciato soltanto le diagonali e gli assi ovviamente la forma del contorno va sempre disegnata ma adesso lo vediamo quindi questa geometria io vorrei che la inventaste voi ovviamente e quindi anche le varie schede se avete capito il meccanismo qualora trovate di difficoltà potete eseguire il tutorial e quindi se c'è fare gli stessi disegni e gli stessi passaggi che faccio io quindi la realizzazione di un gioco simile in questo caso sulla geometria geometrico simile a quello di monari geometrico ovviamente vi dico che in questo caso dovete scegliere voi se pensare a delle schede come queste libere sciolte che possono essere sovrapposte se mai inserite in una scatola oppure creare come farò io adesso un margine e quindi che andrà e queste schede andranno rilegate ovviamente avrete una soluzione del genere ovviamente questo il libri cino anche le dimensioni potete cambiare voi potete anche fare proprio come questo c'è soltanto delle circonferenze l'unica cosa è che più piccole sono le schede vi dico subito è più difficile la realizzazione del del gioco proprio quando sono molto piccole sono molto difficili da ritagliare quali sono i materiali quindi abbiamo un foglio a quadretti ok potete tranquillamente prendere una spilletta del del quadernone lo scotch carta la carta gommata come la volete chiamare voi poi abbiamo ovviamente la matita la gomma il compasso se prevedete delle circonferenze ok anche dentro o sul cartoncino come ho fatto io prima una penna permanente c'è una penna indelebile la punta deve essere una punta media m io ho preso soltanto il nero esistono anche altri colori con cui potrete colorare per esempio i vostri riempimenti io ho preso solo il nero potete anche suare solo il nero non è questa è una questione diciamo legata molto a quello che voi desiderate quello che vi piace quindi il taglierino che utilizzerete solo esclusivamente sotto la supervisione di un vostro genitore di un di un adulto o fate se proprio diciamo non avete una scarsa manualità per carità fatelli proprio tagliare perché diciamo la la prima a primo posto c'è sempre la vostra ingolumità una squadretta dei fogli acetati questi fogli acetati sono dei fogli trasparenti che diciamo trovate in cartolibreria un foglio bianco perché in realtà diciamo uno sfondo dovete sempre averlo pure se fate il libricino lo consiglio e i cartoncini colorati potete pure comprarli singolarmente di colori che a voi piacciono ok sul foglio a quadretti disegniamo ovviamente il quadrato fisso cioè la dimensione del vostro dei vostri fogli diciamo del del gioco come già vi dicevo io aumenterò questo spessore di un centimetro e mezzo quindi di tre quadratini in maniera tale che qui potrete andare in andare in in tipografia e alla fine farvi rilegare ed essere ripeto però che in questa maniera voi non avrete la possibilità di combinare proprio come il gioco di monari ma non è importante quindi cosa facciamo a io l'ho creato 20 20 per il semplice motivo è che quando sono grandi sono è più facile gestirli voi potete tranquillamente farlo anche più piccolo ok quindi creiamoci il nostro quadrato sul foglio a quadretti ok in questo caso avvantaggiati non c'è manco bisogno di doppie squadrette dopodiché come vi dicevo in questo caso io metterei diciamo disegnerei questo margine che è proprio dove voi non andrete a creare niente perché questo sarà uno spazio libero dove vi servirà per la rilegatura ok ovviamente se lo create al libro dopodiché qua dentro ragazzi si chiama geometria che si vuole ok potete ricopiare quella che faccio io e quindi costruirvi le linee principali io preferirei che l'ho inventata voi in tutto questo io vi dico che con i quadretti diciamo tutto diventa molto più semplice per questo vi dico inventatela voi tanto comunque dopo andrete a ricopiare le linee non c'è bisogno né di usare le doppie squadrette né niente quindi e per questo vi dico osate anche se ho detto li siete liberi di ricopiare quello che faccio ovviamente crea delle linee orizzontali e le linee verticali qui andrò a 45 però non avrò bisogno della squadretta a 45 seguirò la diagonale di queste quadretti ok così così e così per fare le linee a 45 e questo ve lo dico anche se non non seguite la mia diciamo il mio disegno basta voi avete il quadrettato giusto questo lo spiego sempre in terza quando faccio la sonometria sono dei piccoli quadretti se noi seguiamo la linea della diagonale dei quadretti avremo una linea 45 quindi da questo punto sono due quadretti in diagonale basta unire questi due con la diagonale quindi questo punto e questo punto e costituiscono diagonali ecco qui e questa è una linea come vedete questo è un quadretto diagonale vi faccio vedere una volta della ma diagonale così via un'unica linea mi basta unire con allineare la squadretta alle diagonali e avremo linee a 45 ecco qui una volta creata questa base che cosa facciamo dobbiamo creare diciamo in gergo tecnico si chiamano proprio layer cioè che sono proprio dei fii come se fossero appunto dei fogli filtro si fissa il foglio con lo scotch carta in maniera tale che voi diciamo non vi si possa muovere e si vanno a creare siano a sovrapporre i fogli luci prendete un foglio lucido ok lo diciamo sovrapponete entrate il vostro il vostro quadrato questo vi garantisce che quando andate a tagliare non è difficile vedete io l'ho messo un po più giù perché qui se lo allineavo al foglio viene troppo sottile il foglio acetato invece lo faccio scendere e poi dopo di che appunto come vi dicevo potreste andare scegliere delle linee non tutte perché altrimenti non create i fogli ma che ha tutto il disegno poi dovete scomporre il vostro disegno geometrico in tante parti quante ne volete ovviamente che cosa ho fatto io non le farò tutte vi faccio vedere solo alcune se no ripeto il lavoro ed è molto lungo poi diventa il video vi ammazzate quando guarda il video e già so che molti di voi vanno avanti veloce giustamente quindi che fatto il primo un primo layer il primo il primo voglio io ho il quadrato le diagonale e gli assi quindi che faccio prendo il potevo scegliere anche un'altra cosa potevo anche scegliere soltanto la cornice e e basta una cosa importante ovviamente la parte in questo caso vale questo la forma del quadrato e questo spazio che andrà la delegatura devono essere sempre tracciati è importante altra cosa è che la squadretta quando andate a disegnare sul sul foglio trasparente il mio consiglio è quello di girare ok il mio consiglio di girare la squadretta questo perché faccio vedere subito lo faccio sul diciamo è facilissimo che il colore vada sotto la squadretta e macchiate l'acetato ve lo faccio vedere perché io l'ho fatto è capitato mi ricordo pure all'università mi capitava spesso questa cosa quindi che faccio la questa linea a un altro consiglio quando passate poi alzate piano piano questo caso non è capitato però può capitare ecco qua di sbavare o meglio che ma il disegno ma il colore sotto e quindi c'è la sbavatura quindi che fate girate la squadretta ok allineate bene attenzione che e poi date la linea in questo modo non c'è possibilità di sbavatura nel caso ok c'è un errore non vi preoccupate perché si può sempre rimediare come si fa si prende praticamente il cotton fioc lo si bagna un poco non l'alcol e prendo questo spray che non lo trovavo vabbè voi prendete un po di acqua mi vede dal diciamo il il cotton fioc di alcol e come vedete è praticamente la vostra come fate il contorno dicevo adesso vi faccio vedere quale in questo caso vedete adesso mi è capitato questa sbavatura come vi dicevo questa parte la dovete portare in tutti diciamo i fogli sia bianchi sia trasparenti e voi andrete sempre a tagliare lungo questo questa diciamo in questo caso diventa un rettangolo con questo spazio e diciamo alla parte praticamente esterna mentre qui andrà la rilegatura quindi il primo lei era e questo ovviamente mi conviene fare delle linee potete pure disegnare soltanto circonferenze o per poter fare le circonferenze sul foglio trasparente con questa pinna niente vi dovete armare di pazienza dovete capire se avete questo pezzo e quindi andare a togliere questo svitandolo non me lo fate fare vabbè facciamolo eccolo qui mettendo questo non ne facciamo una mettendo la penna qui le due punte devono essere abbastanza allineate quindi una volta allineate poi andò se si vede una volta che sono allineate mantenete ferme fermo così ovviamente questo e poi si si stringe secondo me dovete un po schiacciare in maniera tale che passi il punto dentro il foglio acetato e quindi non è precisissimo però non ci importa ecco qua guardate io posso decidere che questo è il mio primo layer ok quindi mi fermo anche andare e colorare questa parte di queste queste parti qua queste quattro parti ovviamente stati attenti alle sbavature io poi vado molto di fretta per cancellare in maniera più corretta anche con diciamo il l'alcol e coton fioc ovviamente assicuratevi prima che sia asciutto io vado sempre e rigorosamente di fretta potesse fare così così in realtà si cancella si mette la squadretta e si passa dunque il compasso così siete sicuri di cancellare solo la parte che mi interessa ovviamente non lo coloro ma potrebbe essere colorato anche questo si toglie ovviamente si libera il foglio acetato col taglierino adesso vi faccio vedere si va a ritagliare questa parte esterna ok questa vi serve perché come vi dicevo quello che non c'è nel mio gioco e lo spazio proprio per la rilegatura dovete mettere qualcosa sotto per evitare di tagliare anzi usiamo proprio questo per evitare appunto di tagliare il tavolo della cucina dello studio quindi mettiamocelo sopra e qui come si fa il taglio prendete appunto il taglierino ve ne faccio vedere solo uno poi si procede sempre la stessa maniera mi raccomando questa operazione rigorosamente solo quando ci sono i vostri genitori e sotto la loro supervisione ok questo è un comunque un attrezzo molto diciamo molto pericoloso potreste tagliarmi ok soprattutto se mettete le dita sotto ok sia linea a questa linea cioè dove dobbiamo tagliare ragazzi in tutto questo anziché usare questo ok si possono anche utilizzare tranquillamente le forbici io non ci ho pensato ovviamente le forbici però diciamo non vi garantisco una precisione nel senso che voi quando tagliate se non siete precisi verrà digni nato quindi ritagliate secondo il margine io non lo utilizzo perché non mi piace tanto però che ci penso forse per è molto più sicuro molto più sicuro come strumento ok il mio consiglio è dopo che avete fatto la prima forma trasparente e andate a fare direttamente questa diciamo bianca che la vostra base perché questo bianco comunque lo dovete fare come si fa vi bloccate il foglio bianco vi bloccate anche il foglio acetato non fa niente tanto ci a cui servono soltanto delle guide questo ragazzi vi serve in maniera tale non dovrete fare sempre lo stesso quadrato preciso già ce l'avete utilizzate via della penna così pure sui cartoncini colorati d'accordo allineate in realtà vedete che c'è lo spessore dell'acetato quindi in realtà la squadetta serve per non sbagliare ma voi senza tante senza tanto diciamo senza calcare tanto basta seguire diciamolo la linea sotto dell'acetato tutto questo la stessa operazione ragazzi se volete ritagliare un cartoncino colorato ovviamente la forma e perché non non potrete ricopiarlo come fate con l'acetato andare a continuare questa linea perché non c'è venuto ma giusto esclusivamente per una questione diciamo di completezza dopo di che ragazzi o col taglierino ovviamente con lo spessore sotto fatto dai vostri genitori però oppure con le forbici con le forbici ritagliate ok lungo diciamo il contorno e otterrete il vostro quadrato l'unica cosa che in questo caso l'unico sforzo che dovrete fare è fare la rilegatura lo spazio della rilegatura ok che vi ricordo erano tre quadratine c'è un centimetro e mezzo quindi una volta ritagliato prendete un centimetro e mezzo sopra un centimetro e mezzo sotto ma questo questa potreste anche non fare serva a voi ok ma in realtà effettivamente questa linea potesse anche non tracciarla diciamo è anche un po utile però per avere un vostro senso dell'orientamento dove dovrebbe andare la rilegatura ecco qua la fate ma se no anche no perché basta metterlo tra i fogli ritorniamo a creare i nostri layer e un foglio trasparente questo punto mi vado a ricalcare delle mie che semmeno non ho fatto prima quindi lo metto sopra lo fisso sempre su tutti i layer cioè su questi trasparenti la squadretta al contrario e ricopiare la forma del rettangolo ok prima abbiamo fatto gli assi in questo caso si può si possono anche fare queste linee posso toglierlo liberarlo e andare a fare di nuovo a ritagliare ok un altro lei e non lo faccio però posso andare a tracciare non lo so queste linee così oppure posso tracciare anche soltanto questo rettangolo o meglio questo quadratino mancante di un triangolino oppure tutto il quadrato voi potete pure fare i quadrati concentrici di un altro colore cioè il principio appunto è sempre questo mettere il foglio acetato potete pure fare soltanto circonferenze e colorarle anche sul foglio trasparente adesso vi faccio vedere come farlo sul foglio colorato l'importante è che su ogni foglio questo trasparente andate a fare sempre il rettangolo esterno e questa linea che in realtà vi serve solo per capire lo spazio di legatura faccio vedere quelli che ho fatto io ho tirato questo quadrato colorato soltanto questi due ma qua potete pure colorare in altra maniera posso decidere di appunto di farmi queste linee e di colorare il riempimento dentro quindi potete tirare queste queste verticali cioè potete colorare fare delle circonferenze colorate ovviamente siete liberissimi l'unica forte difficoltà e avrete quando dovete creare le ieri sui cartoncini scegliete il vostro cartoncino prendete quello già ritagliato lo lo attaccate qui ok con fatto su quello bianco funziona anche questo ok vi disegnate le linee principali questa parte è uguale per tutti ovviamente vi consiglio comunque di farglielo il margine in maniera tale che là dentro non ci fate ricadere i vostri disegni un centimetro e mezzo e un centimetro e mezzo e quindi poi si va a unire prendete il compasso se volete fa delle circonferenze vale circonferenze se volete e quindi poi andate a ritagliare in questo caso vi dico che non è molto facile ritagliare le circonferenze quel taglierino in realtà questo caso è meno pericoloso perché in realtà cosa fate con la punta andate piano piano a fare tanti punti ok ma lo facciamo tanto se fate circonferenze se fate invece praticamente volete ritagliare delle fasce in questa maniera e niente qui il disegno comunque lo dovete approssimare cioè o meglio preso questo ecco qua preso questo bene o male delle linee principali ve le dovete ridisegnare gli assi dipende cosa volete ed è non so se si vede ma io l'ho fatte le le linee ovviamente in questo caso o dovete cercare di essere precisi usare anche le doppie squadrette qualora sia il caso ok che qua io mi sono dovuta ridisegnare con le doppie squadrette questo ma se mai questo voglio non lo fate molto più semplice c'è questo layer colorato lo fate soltanto con le circonferenze nei fate io ho aperto di 3 non mi sbaglio 3 4 e 5 il compasso ma voi siete liberissimi di aprirlo come lo volete prendere una misura standard vi dà la possibilità di essere la cosa sia ripetibile quindi prendete 3 fate una circonferenza 4 da una circonferenza e 5 se non volete ma potete fare anche circonferenze piccole però il discorso è sempre lo stesso e cioè quando voi fate le cose piccole è difficile lavorare nel senso che difficilmente la taglierete questa cosa ovviamente potesse anche non decidere di non farlo proprio diciamo questo questo cartoncino di usare soltanto cartoncini trasparenti però quelli colorati pure sono carini questo punto poterlo tagli alle ragazzi mettete ad esempio uno spessore e niente quasi va con la punta ovviamente non mette delle dita ma la punta si va piano piano si schiaccia e si fa il contorno ovviamente quindi piano piano armati di tanta pazienza e precisione si fa così si fa passa più botte si schiaccia in maniera tale che poi si va a bucare e si fa piano piano è importante partire da questo non è non è necessario a questa forma geometrica qualcuno di voi perché anche una geometria se anche un disegno geometrico nel senso composto da da triangoli circonferenze anche pure è carino quindi fare abbiamo fatto i poligoni fare che ne sono un pentagono un esagono una circonferenza e se e disegnarli poi che ne so su un sul sul foglio su layer separati cioè su uno fa del pentagono su una circonferenza e così via e spero di essere stata chiaro ovviamente una volta finite tutti i layer e ritagliati perché questi comunque vanno ritagliati esternamente proprio come abbiamo tagliato vedete qui va tutti ritagliati una volta fatti tutti i fogli che volete e ovviamente ragazzi e lo dopo è scontato c'è un foglio di questo che ci sono questi segni non è che poi fate un altro disegno con le stesse linee cioè non ha molto senso dovete variarle ovviamente creati tutti quanti una volta che ce l'avete appunto in questo modo le le andate a rilegare se volete rilegarli se no ragazzi senza lo fate questo spazio eh fate senza il rettangolo però io penso che sia più comodo per voi andarla a rilegare e quindi avrete un libricino che va girando si creeranno varie geometrie prima cosa soltanto per coloro che ovviamente sono bravi a livello manuale il principio del layer è sempre lo stesso o meglio il percorso anche se artistico prevede questi passaggi tecnici immaginiamo che io voglio creare una storia ok la una storia appunto attraverso la sovrapposizione di questi layer questo lo faccio molto velocemente perché ovviamente questo è molto personale è un po più artistico rispetto al lavoro geometrico però non lo voglio escludere io il consiglio che vi do anche in questo caso voi scegliete pure la dimensione che volete voi quella è sempre vista possiamo fare anche 15 15 nel caso di un disegno artistico si può fare anche un po più piccolo ma è una vostra scelta anche 20 20 come prima però come lo faccio ovviamente 15 15 però poi ci devono ammettere se lo vado a rilegare ed è quello che vi consiglio perché ripeto senza rilegatura noi ci rimane ci rimangono queste schede dove fare la scatola io sono funzionalista e penso sempre che queste cose vi debbano servire che possano essere riposte e riprese facilmente ovviamente lo scenario deve essere realizzato e completato sul foglio a quadretti perché voi dovete rendervi conto fino a dove volete arrivare ok oppure montella ancora meglio quindi che cosa faccio è un esempio è faccio la montagna faccio tutto il santissimo salvatore che adesso non mi soviene come la facciata ok qua c'è stile la montagna poco a dietro ci sono altre montagne la luna ovviamente qua abbiamo la luna fatta bella col compasso il ponte ma non è detto che sia questo ok deve anche essere questo proprio come ha fatto monari ok qua c'è la cascata non lo so qui c'è la bicicletta il pipistrello ovviamente io adesso sto facendo molto velocemente il cufo non lo so ok mettete quindi qua la bicicletta con la persona sopra ovviamente dovete essere bravi per ciò vi ho detto e cosa succede mettete tutti gli elementi ok fate la pioggia questo perché come quello di monari la pioggia però più precisa oppure la neve ancora meglio ok ovviamente però vi dico che la neve dovrebbe essere fatta a forse anche un pennarello bianco e le lembre forse anche l'uniposca non lo so fatto tutto questo e cosa si fa ovviamente prendete il vostro foglio acetato dovete sempre fare il foglio bianco che sta sotto lo ricordo potete usare i vostri fogli da disegno quindi il contorno base la forma base anche del disegno artistico che deve stare con la bianca poi ci metto poi metto il il layer sotto il foglio trasparente e che faccio ovviamente questa parte va fatta su tutti i fogli trasparenti però su un foglio vado a fare solo la luna su un altro foglio trasparente faccio solo il santissimo salvatore tutto verde poi semmai ovviamente ci dovete avere i pennarelli indelebili verdi ma potete anche fare soltanto col pennarello nero su un altro foglio fate la pioggia lo dogliete ovviamente per ogni l'erba di calcata questo e poi fare anche l'italiano su un altro foglio fate il ponte e lo colorate di nero cioè proprio come ho detto mondella per far riferimento a mondella ma potete creare quello che volete la vostra storia vedete potete fare vedete la la finestra che alla fine l'aereo vedete che su ogni lero c'è un un disegno diverso perché proprio perché può essere qua alla fine ecco forse questo è proprio 15 15 e infatti avevo detto io quindi questo vedete quasi 15 15 manca mezzo centimetro ma non fa niente questa era originariamente era così e quindi c'è solo la finestra ok o da dietro ci posso mettere su un altro dall'altra parte c'è soltanto il gufo il pipistrello degli alberi ok potrebbe essere anche un omino che si sposta c'è un omino lo fate qua l'altro foglio acetato si è spostato qua e vedrete in realtà nel quando andate a rilegare ruotando cioè sfogliando velocemente sembra che si muova questo poi è ancora un altro discorso purtroppo è già lungo il video spero di esservi stata inutile ovviamente poi ne riparleremo in classe buon lavoro